Grazie a tutti ragazzi per ritrovare nel posto MrFolpix se non mi hanno detto per ritrovarti oggi Su GOT Simulator E allora Anche io purtroppo sono finito nista cosa di sto cazzo di gioco Purtroppo che cazzo me l'ha fatto fare a me Io volevo registrare un horror ma Purtroppo è stata così Ecco Partiamo subito Già il gioco l'ho provato E non vi spiego Cioè Lei puoi leccare le cose raga E c'è Una sensibilità proprio Cioè Incredibile E allora Vi stavo dicendo tipo Sto gioco in pratica Più bordello facciamo Cioè i bug poi che non potranno mai mancare Boom E bla Che Ok in pratica Cioè Sto quattro gioco non ha senso raga Ve lo sapevate che non ha senso? Ecco Noi non moriremo mai in sto gioco Possiamo Perfino Cioè Saltare noi in tutte le stanze In pratica più veloci siamo più punti facciamo Se mettiamo caso Minchia che caso è la sensibilità Ecco Scopio Ce le faccio Faccio fare Cioè So fare solamente queste cose Ok Ok In pratica però Se viene un gamine Noi Sapremo Ecco Saremo investiti Poi Per non parlare delle intelligenze artificiali Di cazzo di giochi Boom Ovvio E che cazzo da ogni veca E vabbè Cazzo è sua Oh 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 Vai Come cazzo si Cioè Come cazzo si faccio con la lingua Boh Cioè Ah devo essere vicina Allora guardate sta cogliona qua Cioè Tu che cosa stai facendo Me lo spieghi tu cosa stai facendo Allora Non volevi fare l'amore vero? Ehm Tu marito dov'è serato il coglione Le pacche vero? Ok Ehm Cioè Oh Ha pezzato in merda Ce la sai saltare vero? Ok bravo Andando con quel mangello Che abbiamo compenato Prima che cazzarola Se ne frega E io direi di andare Lì sopra Che mi sembra una buona postazione Per vedere Tutto quello che fanno Allora Vi faccio vedere come cazzo Salle le scale Sta cazzo di Ah Quale? Come? Oh Ah le sale Oh Però c'è Nel senso ci deve restare Non è che Io Cioè Bravo Ecco Bravo No Lì ci devi andare Lì ci devi andare Ah così è Preparati Vabbè Stai cazzo Cioè la mappa sarà anche grandissima Potrò avere tutto quel che vuoi Ma qui potremmo fare anche gol Raga 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 Vai Buffon No Buffon In che caso c'entra Buffon Raga io c'è Nel senso Cioè Ho padato Buffon Ho dato Buffon Ma non è Buffon E' portiere Cioè E poi La spero appena Cioè Questo è il fatto Possiamo andare qua Ok Cioè in pratica Questo gioco tipo Non c'è neanche Salva partita Perché giustamente Ho no sense Quindi Cioè Un gioco no sense Perché dovrebbe avere Un salva partita Me l'ho spiegato Cioè Ci sono un sacco Di easter egg Tipo cose Cose nascoste Di questo gioco Cioè Non è che è solo una La cosa Ho sbloccato pure La shipment Michael Bay Che è tipo Una cosa Fuori dal normale In pratica E' scoppiato tutto In pratica Malgo Bay Sarebbe Perché non lo sapesse Il registro Dei transformers E' di qualche altro Firm che sicuramente Mi sarò visto Perché io Sono un patito Di firme Quando si riescono Ad entrare Qui dentro E' E' in pratica Power pitch Oh L'ho presa Si Ragazzi appena Li afferro con la lingua Mogliono Troppo stile Sta cosa Raga Boom Cioè E' una cosa Fuori dal normale Proprio In questo gioco Cioè Non ha senso No E' qualcosa Veramente di epico Epico Vabbè C'è sempre Sto parola In bocca Possiamo andare al cesso No Daily Routine Ok Porca puttana Cioè Ma che cazzo Me l'ha fatto fare Il gioco Adesso il gioco Cioè Che me l'ha fatto fare A me Che poi potremmo Starmene tranquillamente A dormire sul letto Oppure vedermi Insidious 2 Il nuovo film Quello che l'ho sviluppato Da Ronsuki Ah Signora Cioè Lo stesso per Rambo Cioè Rambo Perché l'ho installato Perché ho sprecato 7 giga di gioco Tu e tu Che stank Cioè Puttana Cosa Cosa sei venuto Oh Sì No Ah è così che la metti Pezza di puttana Ti faccio vedere io Ecco Prendimi Tuca Ma tu non ci finirei mai fuori Vero Cioè Ma tu Prendi conto che Devo metto Mi metto a confidenza Con Ma tu cosa Ascolti musica Cioè Il gioco Ma è grandissimo Ok Ecco Boom Tanto Cioè Quando faccio scoppiare le cose E tipo Mi calano Di 5 fps Il gioco No 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 Ecco Appunto Buonasera Si può Tu cosa guardi Bastardo Ecco Appunto Se posso anche saltare Dalle finestre Ma sicuramente Questa la sapevate Ti rubo il tuo pezzo Di computer Da gaming Perché non ce l'hai Tu ce l'hai Invece Anche se costava 5 mila euro Ma ne ho Tu Sembrate che la fisica Nel tuo gioco E' assento Completamente Cioè Ecco Quel gioco Ah Che pose Oppure che No C'esta musica Oh mio C'esta musica L'ho già sentita Cos'è Tu 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 Ok Eh Pronti Via Empa Aspetta 1 2 Via Via Vai Vai Sì 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 Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Raga Ce la possiamo fare Ho fatto la combo Vai Lì sopra Lì sopra Vai Sì 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 Mantienela Mantienela Volpix Volpix E poi non so cosa fare Con sto roccatapalle Che c'ho qui sopra Tipo Cosa cazzo farci Ecco Appunto A vera ragazzi Vi do il video Ci puoi anche finire Spero che vi sia piaciuto Un po' L'uomo Se commentate A condividere Al mio video Se vi è venuto Ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video VOLPIX 97 Quindi ciò ragazzi Al prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti